Italia politica. La Repubblica, la Costituzione e l'organizzazione dello Stato. La Repubblica. L'Italia è una Repubblica democratica. Questo significa che non vi è un re. La sovranità appartiene al popolo, che è la esercita sulla base di quello che c'è scritto nella Costituzione. I cittadini italiani scelgono i propri rappresentanti attraverso libere elezioni. Tutti i cittadini maggiorenni hanno il diritto e il dovere di partecipare alle elezioni. La Costituzione. La Costituzione è la legge fondamentale della Repubblica italiana, che comincia ad essere utilizzata dal 1 gennaio 1948. La Costituzione contiene l'insieme di diritti e doveri che chi vive in Italia deve conoscere e rispettare. Il testo della Costituzione è diviso in tre sezioni. L'introduzione contiene i dodici principi fondamentali, che sono la base di tutte le regole successive. La prima parte contiene i diritti e i doveri dei cittadini. La seconda parte spiega come funziona la Repubblica italiana. L'organizzazione dello Stato. La maggiore carica dello Stato è il Presidente della Repubblica e viene eletto dal Parlamento. Il Presidente della Repubblica deve garantire che lo Stato funzioni correttamente, secondo quanto scritto nella Costituzione. I poteri dello Stato sono tre. Potere legislativo, cioè il potere di fare le leggi. Questo potere è del Parlamento. Potere esecutivo, cioè il potere di applicare le leggi. Questo potere è del governo. Potere giudiziario, cioè il potere di vigilare che le leggi vengano rispettate, o di punire chi non le rispetta. Questo potere è della magistratura. Parlamento, governo e magistratura sono organi dello Stato, separati, ma che lavorano insieme. Il Parlamento è scelto dai cittadini attraverso le elezioni. Il governo è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni. Il governo è composto dal Presidente del Consiglio e da molti ministri che si interessano di materie particolari dello Stato, come sanità, giustizia, istruzione e lavoro.